Qui all'Out of Mead esponiamo un concert particolare, però prima volevo parlare del rapporto che nasce fra me e Luc, The Concert Factory, che dura ormai da più di vent'anni e si basa su una passione comune che è quella del design. Il design è con i suoi valori e le sue leggi applicate a questo oggetto locale, al quale noi diamo un valore aggiunto che è l'autenticità di un prodotto veramente costruito nelle nostre strutture, nel cuore delle Dolomiti e interamente progettato da designers, nel mio caso progettato da me. In questa occasione abbiamo scelto, abbiamo posto l'accento su uno dei concept più nuovi al quale abbiamo dato il nome di Inside, proprio perché all'interno della montatura si trova il concept, cioè questo piccolo e sottile telaio in metallo che ha una duplice valenza estetica e strutturale. Può incidere un occhiale di design in quanto che è in aumento una fascia di consumatori che è più matura e che dimostra di apprezzare e di acquistare degli oggetti che rispondono a requisiti di qualità di materiali di stile. Essi sono anche sensibili a come l'occhiale viene prodotto, ovvero se per produrre un oggetto, un occhiale lo si fa nel rispetto ambientale e anche dei diritti, per esempio, di chi lavora nella fabbrica. Di questi principi Luke, del concept factory, ha fatto la sua missione. Out of middle, sì, è importante perché Luke ed io abbiamo fatto una scelta di audicità e amore per il prodotto che facciamo. Quindi per noi è molto importante avere un rapporto diretto con il consumatore finale per condividere con lui la passione delle cose fatte a regole d'arte.